tutti i figli di campanaro con giovanni mafrici c'è i blocchi riceve fabi blocco di guariglia abbi trova il tiro alla difficilissimo in faccia l'avversario un ospite si chiama davide rillotta gioca gioca nella vis è un tifosissimo nella viola e buongiorno davide come stai buongiorno a tutti bene bene tu te lo ricordi quando contro capo d'orlando scese tutto il pubblico dietro il trenino sì 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 è un momento problematico molto problematico ora poi raggiunta che siamo a pari merito con agropoli e scafati ancora più dura bisognerà fare un bello sforzo sì assolutamente bisogna sovvertire tutti i pronostici completamente perché se no diventa dura è un patrimonio come la serie a due reggio calabria non può permetterselo di abbandonare e cambiamo pagina parliamo di serie b arriva la strepitosa vittoria della mastria venni cadanzaro contro palestrina all'overtime 45 minuti di fuoco ma 45 minuti di fuoco anche al pala botteghelle la vis vince una gara dai mille temi contro la bim bum basket rende e ce la vuoi riassumere e siete partiti malissimo e poi sì siamo partiti malissimo emblemati emblematici sono quei due punti fatti nel secondo quarto da te ovviamente scherzo per giunta su tiro libero quindi per far notare come fosse tesa questa partita poi al rientro alle spogliatoi siamo riusciti in cinque minuti se non ricordo male a a pareggiare andare anzi sopra in vantaggio di due da là poi la partita è stata sempre punta a punto e quanto è stato difficile per te e per i tuoi compagni marcare il lungo lituano scurdauskas vi siete immolati un po tutti mimmo cedro su tutti poi ho visto insomma tu provai a passargli sotto le gambe marco costantino a un certo punto voleva prendersi una questione è tutto molto complicato difendere vabbò certo è sempre uno di due metri e otto dieci non si sa perché il medico non arriva a misurare per bene fino alla sopra però è veramente difficile poi è bravo ma poi cosa che non mi sarei mai aspettato è agile c'è comunque non è un lungo messo lì per caso è un ottimo centro e ovviamente marcarlo è stata un'impresa prima Pasquale poi James poi è toccato a Mimmo a me a Rizzieri che ci trovavamo sotto nella zona e fermarlo era proprio difficile infatti ora nel gruppo ci stiamo ridendo sopra sulle modalità proprio su come lo marcavamo ha detto coach farina ieri nell'intervista post gara che rende e favorita all'interno di questa sfida che ne pensi secondo me assolutamente sì il già questo fatto di avere un lungo che ti sposta così tanto in una categoria come la nostra già fa tantissimo poi il resto della squadra comunque è di ottimo livello mirando venuto pirrone e cilento che comunque un 98 ottimo sono una bella squadra poi il problema è che poi non la puoi studiare nemmeno più di tanto essendo cambiata radicalmente dal se n'è andato d'aison è arrivato anche ward inizio dell'anno insomma ward assolutamente sì 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 è campionato davvero combattuto il playoff di serie c silver per chi ci segue soltanto all'interno di questo appuntamento è partito al sabato con la vittoria del basketball la mezzia sul valgallico e ieri gara incandescente al palabotteghele successo per la vista dopo 45 minuti contro la bimbo basket rende e tornando alla sfida tra valgallico e la mezzia è bella bella sfida anche qui valgallico più che incerottato con con vigianisi a mezzo servizio e senza caetano arena la mezzia vince anche qui dominio lituano con stanionis ancora protagonista ancora a quota 30 punti praticamente se si fosse riaperta la classifica marcatori stanionis sarebbe già al quinto posto assolutamente sì 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 ho vista la partita sulla grazie alla diretta di reggio a canestro e c'è stato il valgallico è riuscito a tenere questa partita per tantissimo tempo poi se non sbaglio gli ultimi due minuti del secondo quarto c'è stato quando è uscito catano romeo esatto bravissimo poi c'è stato quel break che ha fatto male poi all'intervallo andare sotto di 10 non è mai bello però è stata una bella gara il valgallico è riuscito a lottare bene in campo è stato bene poi comunque stanionis è veramente molto forte complimenti a lui e a di gennaro i protagonisti assoluti questa sfida ci scrivono in tanti e vogliono sapere notizie sullo staff tecnico della viola e non ne abbiamo notizie su patrick baldassarre sappiamo che questa mattina sta provando a ricevere lumi su questo ginocchio poi notizie sulla modalità di accesso di gara 2 tra valgallico e la mezzia basketball in programma giovedì il gm balotripodi ci ha rassicurato dicendo che saranno 200 posti entrata ovviamente con prenotazione un po come accadde l'anno scorso in occasione della finalissima contro la vis reggio calabria e non solo probabilmente nel pomeriggio arriverà un comunicato stampa quello che possiamo dire è che questo campione c silver davide sta emozionando in chiave totale ieri un palabotteghelle bellissimo festante con tanti tifosi un tuo compagno il playmaker quello la che giova nel quarto periodo sembrava a un certo punto fabbio grosso ai tempi del 2006 si a riccardo rizzeria che salutiamo ci sta seguendo e salutiamo anche giulia è collegatissimo esatto che sta guardando la diretta purtroppo a questa esultanza la tardelli che mi ha che può dare fastidio anche si anche perché me l'ha pure contagiata quindi sono iniziando a farla pure che mi dà fastidio e riccardo è uno sanguigno nel senso buono e molto focosi in tutti i suoi movimenti e poi ha un'esperienza da vendere fondamentale per noi sì il fatto delizieri nell'ultimo minuto sia nel tempo regolamentare che nel supplementare è stato abbastanza evidente anche se rende avuto il pallone per vincerla questa partita e onestamente vincendo ci poteva stare ci poteva stare assolutamente non avesse dovuto vincere niente sarebbe stato giustissimo sono stati sopra tutta la partita quindi la nostra vittoria non è un furto però avesse vinto rende nessuno si poteva arrabbiare e penso che il dato fondamentale di quanto sia viva questa squadra silana è che i canestri decisivi non sono arrivati né da mirando né da lituano sono arrivati uno da ubaldo cilento sto parlando della tripla che ha un po' ha rimesso in piedi la gara per rende e poi il gioco da quattro punti che non si è concretizzato per intero di mazzuca quindi è un gruppo che ancora secondo me ha tantissimo da dare assolutamente noi poi essendo loro due i giocatori più più importanti per questa squadra ovviamente ci focalizziamo più su loro due il resto della squadra comunque non è affatto di scarso livello quindi nel momento in cui c'è direi centimetri o anche dei metri a cilento a mazzuco chi che sia comunque può risultare problematico cosa che infatti anche arrende nel stagione regolare la partita l'ha vinta proprio mazzuca da tre ci scrive luigi di bernardo quanto è bello fare share con i reggini questo sarà il marchio vista nei prossimi anni ok va bene la maglietta la maglietta eh sì la maglietta la mia ma anzi c'è scritto luigi scusa c'è scritto pubblicità occulta alla mia marca preferita va bene ciao luigi ciao che ecco ci stanno seguendo in diretta e ok poi c'è stato anche qualche battibecco qualche colpo proibito però è sempre un playoff ci sta è normale il l'atmosfera si riscalda i colpi ci sono da entrambi le parti ne abbiamo prese tante ovviamente non è che non le abbiamo date però è stata una partita molto molto maschia dai diciamo così infatti poi gli animi si sono pure un pochettino riscaldati dovete sapere che io e davide l'in lotta negli anni abbiamo giocato tantissime volte insieme nei tornei estivi li abbiamo anche vinti per merito suo e di Bob Villanisi che tirava al contrario bravo però ad un certo punto la partita di ieri nel momento clou avevi la palla eravate avanti potevi pure tranquillizzarti un attimino adesso ti tiro a tre e checco d'Arrigo mentre tu tornavi in difesa ha cominciato a gridare io ti ammazzo no e sì no l'ho pure detto nella diretta sì proprio non me ne sono minimamente accorto ho capito altro che avevi capito eh che avevi capito l'unica rima che mi viene è una parolaccia quindi non la lasciamo stare no comunque sì era veramente ero stanco non ci vedevo più niente non ho visto il cronometro mi sono visto libero e ho tirato sbagliando sia la scelta che il tiro e infatti me ne sono poi pentita abbiamo mangiato poi col coach infatti abbiamo poi ci abbiamo scherzato su per fortuna è andata bene però ovviamente non si dovrà mai più ripetere perché era veramente una schifezza incredibile come vedi gara 2 di Valgallico-Lamezia e Ren Devis? allora Valgallico-Lamezia sarà una bellissima partita anche perché durante la pool promozione il Valgallico è stata l'unica squadra che è riuscita a battere Lamezia quindi non è detto niente anzi me lo auguro così si potrà ancora giocare a Lamezia e il campionato si potrà fare ancora più bello mentre la nostra sarà penso come sempre una battaglia punto a punto battaglia sportiva ovviamente e da là si vedrà sarà una partita molto difficile perché il campo di Rende se non sbaglio non ha vinto ancora nessuno lì no ha vinto Lamezia ha vinto Lamezia quando c'era Chris Longoria è un campo molto 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 difficile ci sarà moltissimo pubblico e sarà una vera e propria battaglia speriamo bene sei d'accordo con me che l'NVP di gara 1 tra Visse e Rende è Francesco Lobasso? sì assolutamente anche perché tutti i punti che ha fatto li ha fatti nel terzo quarto e nel supplementare quindi nei momenti decisivi si è fatto vedere e come ok io ringrazio Davide Rillotta per essere stato con noi grazie mille Davide ciao a tutti e l'ho portato anche per rallegrarci dopo questa situazione della Viola Reggio Calabria che è abbastanza problematica attendiamo sviluppi e può succedere ancora di tutto all'interno di questa stagione tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici c'è i blocchi e riceve Fabi, blocco di Guariglia Fabi trova il tiro alla difficilissimo in faccia all'avversario ehi Campanaro, Campo Campanaro, non si dimentica mai ehi Campanaro, non si dimentica mai